Nella lezione di oggi cominciamo a parlare dei parametri che caratterizzano le variabili casuali in modo tale da poterne dare una descrizione sintetica anche senza dover ricorrere necessariamente alla conoscenza completa della funzione di distribuzione o della densità di probabilità Ecco, il primo parametro che introduciamo è la cosiddetta moda Allora, per moda intendiamo un valore, una coordinata xm in corrispondenza della quale la densità di probabilità assume il suo valore massimo Qui vedete rappresentata in figura una densità di probabilità in rosso e vedete che il massimo della funzione fx è questo ed è raggiunto in corrispondenza di questo x con m che a tutti gli effetti è la moda Ecco, attenzione al fatto che una definizione rigorosa vede la moda come l'insieme degli xm tali per cui per ogni x appartenente ad R fx è sempre minore uguale del valore assunto in quel punto o in quell'insieme di punti xm perché in realtà non è detto che ci sia un solo punto di massimo potrebbero esserci più punti di massimo tutti allo stesso livello ma questo è qualcosa che vediamo tra un attimo Adesso vediamo alcune osservazioni La prima osservazione è questa Se noi ricordiamo che la probabilità che x grande, la variabile casuale x sia compresa tra xm, xm più dx è uguale all'incirca, in prima approssimazione come fx di xm per dx qui c'è un xm ci rendiamo conto che xm è in qualche modo il valore più probabile Lo metto tra virgolette perché in realtà è il valore più probabile se consideriamo un intorno di quella x quindi se noi ad ogni x consideriamo un intorno di una certa larghezza e andiamo a verificare qual è la probabilità di cadere in quell'intorno infinitesimo tra tutti gli intorni infinitesimi quello associato alla moda è sicuramente quello più probabile e questo ci permette per esempio di tornare a questo grafico quindi se io considero questa piccola area chiaramente quando io sono intorno alla moda quando sono in corrispondenza della moda è il momento in cui quest'area è massima se io costruissi quest'area in questa posizione la troverai sicuramente più bassa ecco, attenzione però che noi sappiamo bene che per variabili casuali continue la probabilità di avere x che la probabilità di x sia uguale a un x segnato specifico è sempre una probabilità nulla per ogni x segnato appartenente ad R e quindi la moda non fa eccezione quindi a rigore la probabilità di cadere esattamente sulla moda è 0 come è uguale a 0 la probabilità di cadere esattamente in qualsiasi altro punto dell'asse reale però se invece noi non ragioniamo sul valore puntuale ma ragioniamo su un intorno allora in questo caso effettivamente la moda torna ad essere il valore più probabile e se ci pensate il fatto che sia il valore più probabile giustifica anche il nome proprio di moda ecco, un'altra proprietà interessante è che la moda, come abbiamo già accennato potrebbe non essere unica qui un altro disegno in cui vedete che i punti in corrispondenza dei quali la fx raggiunge il suo massimo sono questo intervallo e poi questi altri due punti quindi in questo caso la moda è data dall'unione di un segmento e di due punti qualche volta la moda invece sarà unica quando la moda è unica si dice che la variabile casuale è unimodale o che la densità di probabilità è unimodale e mentre invece se ha più, diciamo quando ci sono più punti di massimo a volte nemmeno anche tutti uguali ma anche punti di massimo di altezza diversa si dice che è multimodale però appunto se il massimo è unico la si può definire una densità di probabilità o una variabile casuale unimodale ecco, il secondo parametro che introduciamo è la mediana la mediana è definita come il valore mx tale che la funzione di distribuzione in mx vale 0.5 illustriamo subito con dei grafici questo è il grafico della funzione di distribuzione e questo è il grafico della densità di probabilità allora vado a prendere il valore mx in corrispondenza del quale la funzione di distribuzione vale 0.5 naturalmente lo stesso valore se viene preso sulla densità di probabilità avrà una proprietà diversa ovvero che l'area che giace a sinistra è pari all'area che giace a destra e queste aree sono tutte e due pari a 0.5 che quest'area vale 0.5 è legato al fatto che la funzione di distribuzione è la primitiva della densità di probabilità ecco, quindi la mediana come dice il nome ha questa proprietà di dividere a metà quindi divide a metà in particolare lo si vede bene divide a metà la densità di probabilità lasciandone metà da una parte e metà e metà dall'altra alcune osservazioni anche sulla mediana la prima osservazione che abbiamo già in qualche modo visualizzato è che la probabilità che x grande sia meno uguale della mediana è uguale alla probabilità che x sia maggiore della mediana e sono entrambe pari a 0.5 diciamo, questo giustifica il suo nome anche per la mediana come nel caso della moda può accadere che non sia unica è facile trovare degli esempi per esempio quando avete la funzione di distribuzione a scalini delle variabili casuali discrete in questo caso ho preso la funzione di distribuzione di un dado onesto quindi vedete che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 valori e vedete che qui avete tanti scalini pari a 1 sesto, 2 sesti, 3 sesti, 4 sesti, 5 sesti e 6 sesti allora, se ci domandiamo cosa vale la mediana devo prendere 3 sesti che è un mezzo e quindi la mediana è data dall'insieme dei punti che partono con x uguale a 3 e arrivano a 4 senza includerlo quindi 4 escluso ecco, naturalmente per quanto riguarda la mediana va anche detto che ci sono anche diverse definizioni in letteratura c'è qualcuno che la definisce come il valore più piccolo che gode della proprietà che x sia minore uguale a mx noi rimaniamo su questa definizione che comporta anche una possibile non unicità ma che, come vediamo tra un attimo si tende a risolvere in maniera forse empirica ma diciamo tutto insommato abbastanza efficace ecco, una domanda come si stima la mediana? a dire il vero in questa fase del corso noi stiamo facendo calcolo delle probabilità quindi potremmo anche ignorare completamente il problema della stima a partire dai dati sperimentali e tuttavia questo tipo di trattazione tenderebbe a diventare un po' troppo astratta se ogni tanto non ci collegassimo con le osservazioni reali quindi per esempio abbiamo parlato di mediana e legittimamente qualcuno dirà ma se io ho fatto una raccolta dati come faccio a capire cosa vale la mediana? ma è abbastanza semplice tutto sommato prendiamo un primo esempio se i miei dati sono 8, 12, 15, 17, 18 e vedete che questi dati sono stati appositamente ordinati quindi in realtà quando voi li raccogliete può darsi che siano disordinati quindi il lavoro che dovete fare è metterli in ordine quindi fare un'operazione di sort una volta che li avete ordinati la stima della mediana che potremmo chiamare mediana campionaria coincide banalmente col punto che sta in mezzo quando le osservazioni sono dispari qui sono dispari perché sono 5 il dato che sta in mezzo è 15 quindi questa è la nostra stima della mediana nel secondo esempio prendiamo invece un numero di osservazioni pari quindi abbiamo 8, 12, 15, 17, 18, 21 come si fa a trovare la mediana? quindi in questo caso vorrebbe voglia di dire che siamo in una situazione più o meno di non unicità quindi dovremmo stare in qualche modo in mezzo tra 15 e 17 ecco devo dire che la strada quasi universalmente adottata in questi casi è quella di fare la media aritmetica tra i due valori centrali quindi 15 più 17 2 su 2 uguale a 16 ecco adesso apriamo una parentesi e parliamo visto che siamo in vena di stimare delle quantità a partire dei dati della stima della densità di probabilità che sicuramente è un problema fondamentale perché la densità di probabilità ci dice molto se non tutto di una variabile casuale e nel mondo reale può capitare di raccogliere dei dati su una variabile casuale ma di non avere un'informazione a priori su quale sia la sua densità di probabilità quindi domandiamoci se io ho a disposizione dei dati che noi qui interpretiamo come n realizzazioni indipendenti di una variabile casuale quindi abbiamo x1, x2, xn ma questi x1, x2, xn sono estrazioni realizzazioni indipendenti e hanno tutti la stessa densità di probabilità e io vorrei capire com'è fatta questa densità di probabilità magari se io ho raccolto tanti dati cento, mille, diecimila o milioni di dati questi potrebbero aiutarmi a disegnare la forma della densità di probabilità di questi dati e questo diciamo è il problema allora questo problema ammette diciamo diverse soluzioni qui ne vediamo diciamo due soluzioni molto di base che è necessario sapere perché sono largamente adottate la prima soluzione è quella dell'istogramma qualche volta viene chiamato anche istogramma di frequenza ma adesso potremmo spiegare in che senso l'istogramma è basato su un principio molto semplice prendo l'asse delle x e lo partiziono con dei bin con dei segmenti che vengono chiamati bin quindi vedete qui è stato segmentato l'asse delle x dopodiché vado a contare quante delle mie x con i cioè quante delle osservazioni cadono in ciascuno dei bin quindi per esempio in questo bin potrebbero essere cadute quattro osservazioni una volta che ho fatto questa conta disegno una barra la cui altezza è proporzionale alla conta quindi se per esempio ho un istogramma di frequenza potrei scrivere poi alzare una barra che è alta quattro perché ho verificato che ho quattro osservazioni dentro questo segmento per consentire una migliore confronto con la densità di probabilità vera o stimata conviene invece che l'area di queste barre sia uguale alla frazione delle osservazioni che cadono nel bin perché l'area è uguale alla frazione perché quando metto insieme tutte le aree a questo punto viene fuori uno e quindi ho disegnato un istogramma che nasce già confrontabile con la densità di probabilità vera però se a voi non interessa un confronto con la densità di probabilità potete anche semplicemente fare delle barre alte pari al conteggio delle osservazioni che sono cadute in ciascuno dei bin l'unica controindicazione è che noi per esempio sappiamo che una densità vera potrebbe essere abbastanza dolce arrotondata con l'istogramma invece avete sempre un andamento un po' a scatti però uno strumento molto semplice molto usato e che è bene conoscere ecco un problema intrinseco agli istogrammi è la scelta dei bin per bin intendo questi segmentini in cui vado a fare la conta per esempio se io scelgo troppe classi quindi se prendo troppi bin potrebbe venire fuori un risultato di questo tipo con una certa probabilità succede che alcuni segmenti rimangono vuoti perché semplicemente ci sono troppi segmenti e quindi ogni tanto anche se sappiamo se siamo convinti che la densità vera non fa dei salti ma è abbastanza graduale nel grafico ci si ritrova ad avere dei buchi diciamo praticamente antiestetici che poi rendono anche difficile interpretare l'istogramma a questo tipo di pericolo c'è una via di scampo naturalmente che è quella di ridurre il numero dei bin quindi ridurre il numero delle classi qui per esempio ho provato a ridurre a solo quattro classi allora con quattro classi evidentemente si va a far la conta di quelli che cadono in questo segmento siccome il segmento è abbastanza ampio ce ne sono di persone che cadono dentro ce ne sono di osservazioni che cadono dentro e di conseguenza non c'è più il problema dell'istogramma bucherellato tuttavia avendo forzato la mano così tanto si vede che se uso solo quattro bin ho un'approssimazione veramente un po' grossolana di quella che potrebbe essere la densità di probabilità vera quindi diciamo qui c'è una scelta c'è da fare delle prove qualcuno naturalmente ha fatto delle proposte le proposte diciamo sono sostanzialmente di solito le proposte empiriche quindi diciamo non c'è grande scienza dentro queste proposte però può essere utile conoscerle perché in situazioni non particolarmente complesse possono dare un primo suggerimento alla scelta da fare che sperabilmente potrebbe anche funzionare senza bisogno di analisi più sofisticate allora le due regole empiriche ma anche su wikipedia stessa ne trovate altre c'è addirittura una sezione dedicata a questo argomento le due regole empiriche sono la power of two rule la regola della potenza del due che dice usare un numero di beans k tale per cui n sia compreso tra 2 alla k meno 1 e 2 alla k basta fare un esempio prendiamo n uguale a 100 si vede che 100 è compreso tra 2 alla sesta e 2 alla settima e la raccomandazione del power of two rule è quella di usare k uguale a 7 la power of two rule in alcuni casi può risultare abbastanza parsimoniosa e lo si capisce perché facendo leva sul logaritmo anche se il numero di dati cresce molto tende ad essere molto molto lenta ad adeguare il numero dei bean una regola che in qualche modo è un pochino più diciamo lassista se si può dire è quella della radice quadrata cioè semplicemente decide il numero di bean in base alla radice di n e vedete che in questo caso con n uguale a 100 il k sarebbe stato pari a 10 quindi diciamo è più propensa al rischio questa questa seconda regola ecco avendo introdotto la mediana è giunto il momento di introdurre anche i quartili abbiamo già visto che la mediana ha la proprietà di dividere la densità di probabilità in due parti ciascuna delle quali ha la stessa area pari a 0.5 in realtà nulla ci impedisce di replicare questo ragionamento anche su scala più piccola quindi potrei definire dei punti sull'asse x che chiamiamo q1 q2 e q3 tali per cui tagliano a fette la mia densità di probabilità lasciando diciamo in ogni intervallo uno 0.25 della probabilità complessiva quindi 0.25 0.25 0.25 0.25 alla fine fa 1 ecco quindi questi sono i quartili in maniera del tutto analoga si definiscono anche i decili così e poi si possono definire anche i percentili nel caso dei decili mentre i quartili dividono in 4 parti nel caso dei decili si divide in 10 parti e nel caso dei percentili si divide addirittura in 100 parti ecco perché ho voluto parlare dei quartili perché i quartili giocano un ruolo del tutto particolare in quello che è chiamato box plot ecco noi abbiamo visto che possiamo usare l'istogramma per rappresentare una densità di probabilità però c'è una tecnica alternativa che ha anche alcuni vantaggi e che tra l'altro quando i dati non sono numerosissimi evita anche quei buchi antiestetici oppure la triste necessità di dover perdere risoluzione quindi usare pochissime classi pochissimi bin per descrivere la mia densità di probabilità invece il box plot segue una strada diversa ma non meno efficace come vedete io qui ho immaginato di avere delle osservazioni che sono indicate con le corcette in rosso e quello che ho disegnato è quello che si chiama uno scatter plot univariato uno scatter plot monodimensionale cioè semplicemente faccio una croce rossa in corrispondenza di ciascuna delle osservazioni quindi vado a vedere se un'osservazione per esempio qui vale 17 allora track metto una croce rossa nel posto del 17 ecco il vantaggio di questa rappresentazione è che mi dà un colpo d'occhio immediato però diciamo non è particolarmente leggibile uno scatter plot unidimensionale quindi in alternativa all'istogramma che naturalmente si potrebbe fare consideriamo un box plot allora il box plot come dice il nome è formato da una scatola e questa scatola parte da Q1 primo quartile passa per Q2 che è la mediana e arriva a Q3 che è il terzo quartile la distanza tra Q1 e Q3 è chiamata H spread e si indica con la lettera H dopodiché al di fuori di questa scatolina ci sono i baffi i baffi che in questa versione del box plot si estendono fino all'osservazione minima a sinistra e fino all'osservazione massima a destra quindi questo diciamo è un primo box plot particolarmente semplice ma in realtà c'è neanche un altro che attira la nostra attenzione ed è il cosiddetto outlier box plot l'outlier box plot nasce dalla consapevolezza che spesso i dati che raccogliamo non sono dati puliti sono dati contaminati da tante cose da errori materiali errori di trascrizione errori di raccolta dati errori di misura dovuti a sensori che si bloccano che si guastano e quindi danno delle misure assolutamente non plausibili mentre a livello statistico c'è particolare riluttanza a prendere dei dati e a scartarli perché questo chiaramente può inficiare la bontà anche di esperimenti progettati per essere fatti in laboratorio secondo certe regole nel mondo industriale invece questa può essere addirittura una necessità nel mondo industriale diciamo i macchinari la produzione non viene fatta procedere per raccogliere dati per capire viene fatta procedere per costruire automobili furgoni che poi andranno venduti avendo un profitto quindi la possibilità di avere dei dati veramente molto anomali è tutt'altro che remota quindi a questo punto si pone il problema di quella che viene chiamata pulizia dei dati come si possa fare questa pulizia questo è un argomento complesso un modo però particolarmente semplice tutto sommato anche efficace è quello di ricorrere all'outlier box plot apparentemente è simile se non identico al precedente la cosa che distingue un outlier box plot dall'altro outlier box dall'altro box plot e che salta subito all'occhio è la presenza di questi puntini neri quindi quando vedete un outlier box plot vedete i baffi neri così e poi vedete i puntini è un po' come se diciamo questi qui fossero dei valori anomali sostanzialmente quindi vanno al di là addirittura dei baffi come si fa a decidere se un valore anomalo e quindi va al di fuori dai baffi e quindi viene in qualche modo additato come un dato che potrebbe anche essere scartato quindi un primo passaggio potrebbe essere costruisco un outlier box plot faccio fuori tutti i dati che sono finiti diciamo esternamente ai cosiddetti limiti degli outliers sì perché la decisione viene presa guardando questi due limiti Q1 il primo quartile meno 1,5 l'h spread e Q3 il terzo quartile più 1,5 l'h spread ecco tutto ciò che va al di fuori di questo è considerato un outlier e quindi in qualche modo diciamo possiamo procedere al suo scarto altrimenti è una soluzione molto empirica perché per diciamo decidere se qualcosa è un outlier bisognerebbe in qualche modo avere una conoscenza più precisa della distribuzione corretta dei dati e fare un confronto tra questa e diciamo i dati anomali che vediamo però in molte situazioni pratiche si vede che questo strumento diciamo molto semplificato e standardizzato funziona egregiamente nel caso gaussiano con infiniti dati è interessante domandarsi cosa salterebbe fuori allora salterebbe fuori che la mediana è uguale alla media questo è abbastanza ovvio che l'h spread vale 1,34 è sigma la deviazione standard quella che vedremo diciamo essere la deviazione standard della gaussiana e che i limiti degli outliers sono pari a mu cioè la media e la mediana che coincidono più o meno 2,68 volte sigma vi ricordate che nel caso della gaussiana tra mu più meno 1,96 sigma cade il 95% della gaussiana quindi sono la definizione degli outliers secondo l'outlier boxplot lascia fuori meno nel caso gaussiano meno del 5% dei dati questo diciamo è un dato interessante da tenere presente ecco grazie 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 grazie